amici sportivi bentornati all'ac sport beh se ieri abbiamo dato ampio spazio alla pallavolo e al basket oggi è il calcio il nostro piatto forte perché perché nonostante sia solo venerdì siamo praticamente già in campo alle 19 e 30 verrà inaugurato il 22esimo turno di lega pro ad inaugurarlo ci sarà proprio una squadra calabrese la vigor la mezzia che al dipolito ospiterà l'ischia senza tanti titolari a fare la conta è direttamente il tecnico bianco verde alessandro era che abbiamo intervistato sentite filosa cattari scarsella abbia poi piacenti di bella mi sembrano infortunati storici poi abbiamo del santi e montella che hanno qualche acciacco hanno lavorato a singhiozzo da una settimana e quindi per l'ennesima volta siamo in condizioni un po in difficoltà però per l'ennesima volta sono convinto che la squadra darà tutto quindi ennesima opportunità per questi ragazzi di confrontarsi al cospetto di una squadra che ha fatto tanti movimenti sia in entrata che in uscita quindi una sorta di aversa 2 con tanti giocatori nuovi assolutamente non troviamo la scuola dell'andata bensì una squadra che ha messo in organico qualche giocatore esperto in più il fatto che abbiano anche inserito giocatori del calibro di millesi infantino massimo stesso caso in difesa quindi mi sembra che abbiano operato in direzione di di prendere giocatori esperti anche se una squadra che fa minutaggio punti deboli probabilmente la classifica visto che li vedi in una situazione di difficoltà però in una situazione di difficoltà le squadre campane sanno sempre tirare fuori il medio e allora alla luce di quanto detto da mister questa la vigor che abbiamo immaginato contro l'ischia che scendere in campo ve lo ricordiamo alle 19.30 questa sera con l'aiuto della grafica andiamo a vederla insieme 4-3-3 lo schieramento forte in porta malerba rapisarda costadinovic e spirito in difesa sulla linea di metà campo papa battaglia e pucce poi il tridente chiamato a far male all'ischia con eld del sante è in prote ed ora la regina con una notizia importante di calcio mercato il club amaranto si è accaparrato il jolly di centrocampo a marco gallozzi tassello che mister alberti potrà far già esordire domenica nel super derby contro il messina e già febbre derby in riva allo stretto e in casa maranto continuano gli arrivi questa notte sbarcato a reggio calabria marco gallozzi centrocampista classe 88 il giocatore alla regina titolo definitivo arriva dal matera e già oggi si allenerà con la squadra probabile un suo utilizzo al san filippo contro il messina proprio contro i giallorossi e certo invece l'impiego delle bandiere belardi cirillo e ironica quest'ultimo già visto in campo negli ultimi minuti al granillo contro la paganese ad arbitrare l'incontro di domenica sarà il signor giuseppe cifelli di campo basso coadiuvato da matteo benedettino e damiano margani dalla società maranto fanno sapere intanto che sono stati venduti già 350 biglietti e che la tifoseria maranto si sta organizzando per sostenere la squadra nel migliore dei modi per far sì che tutto si svolga nella totale sicurezza si sta svolgendo in queste ore una riunione della gruppo operativo di sicurezza per definire i dettagli organizzativi domani invece si insedierà il tavolo tecnico che stabilirà le procedure di sicurezza per la trasferta dei tifosi reggini che raggiungeranno lo stadio peloritano ricordiamo che proprio per ordine pubblico la sfida tra messina e regina è stata anticipata alle 14 era prevista invece da calendario alle ore 16 super derby dello stretto nelle parole di ungaro ed aronica sentite prossima sfida col messina inutile dirlo una partita sentitissima lei lo lo sa lo sa molto bene perché conosce l'ambiente in che modo arriva la regina a questa questa sfida diciamo che il derby è una partita particolare ho avuto la fortuna di poterlo giocare da ambedue le parti con la maglia della messina e con la maglia della regina chiaramente questo risultato ottenuto alla fine ci dà grande entusiasmo grande morale quindi ci permette di lavorare in settimana bene per prepararci appunto a questa sfida molto importante appunto dobbiamo preparare questa partita che penso che sia una delle più importanti della stagione e quindi va preparata in ogni minimo dettaglio e quindi speriamo di portare a casa la domenica che sarebbe la cosa più bella diciamo la partita dell'anno come hanno detto sia a Sponda Messina sia a Sponda Reggio Calabria detto della regina e della Vigor con l'aiuto della grafica andiamo a vedere però il programma completo della ventiduesima giornata e quindi alle 19.30 la Vigor la Messia che scenderà in campo contro l'Ischia domani Benevento Savoia alle 14.30 stesso orario per Juve Stabia Casertana Melfi Foggia alle 15 alle 16 Cosenza Barletta alle 19.30 invece sarà Lecce contro Matera domenica il Clu Martina Franca Catanzaro alle 12.30 verso Normanna Salernitana alle 14.30 Messina e Regina come detto ha anticipato il match alle 14 per ordine pubblico Paganese Lupa Roma chiuderà il turno numero 22 di Lega Pro alle ore 18 Messina e Regina in campo domenica la Vigor oggi domani come abbiamo visto invece toccherà al Cosenza che al San Vito ospiterà il Barletta una formazione la trasferta considerate le statistiche quattro anni dopo con le stesse ambizioni di salvezza nel ventiduesimo turno di Lega Pro torna un atteso incrocio una classica del calcio italiano Cosenza e Barletta hanno incrociato il loro cammino per ben 53 volte nella storia dando vita a 22 dei 26 match disputati in terra calabrese tra C1, C1, C2, prima divisione e seconda divisione categorie oggi riassunte nell'attuale Lega Pro domani alle 16 il San Vito ritroverà la sfida tra Bianco Rossi e Rosso Blu a 47 mesi dall'ultima volta risalente al 21 febbraio 2011 sfida chiusa per 1 a 1 netto invece il successo dei pugliesi nella gara di andata di questo torneo ma quello era un altro Cosenza con altri interpreti in campo ed un altro allenatore in panchina i silani vogliono vendicare quel pesante 3 a 0 subito mister Roselli sperava di poter contare sulla freccia arcidiacono nel proprio arco ma l'attaccante resterà al Martina e allora largo agli uomini che hanno spinto il club rosso-blu a 23 punti in classifica Sperotto recupera, caccetta no per il resto il Cosenza dovrebbe schierarsi con il consueto 4-4-2 Calderini è in vantaggio su De Angelis, intoccabile Tortolano attenzione che il Barletta ultimamente in trasferta viaggia come un frecciarossa chiedere a Vigor, Foggia e Messina per conferma Ed ora ci spostiamo in eccellenza dove evidentemente i nostri effettori sono puntati soprattutto sulla Vibonese che prova gli ultimi accorgimenti tecnico-tattici in vista della sfida casalinga di domenica contro il Castrovillari le ultimissime in questo servizio La Vibonese alza i ritmi in vista del nuovo turno di campionato il numero 19 del torneo, il quarto del girone di ritorno il futuro prossimo si chiama Castrovillari squadra sulla carta abbordabile ma non sprovvista di trappole che potrebbero rovinare un'altra domenica i ragazzi di Gaetano Di Maria come è successo domenica scorsa contro l'Acri come i tifosi rosso-blu sperano non accada più due ore in avanti il sogno di agganciare la Palmese si è squagliato come neve al sole ma di opportunità per conquistare il salto di categoria ne sono rimaste e allora meglio non sprecare altre chance anche perché ora davanti a Cosenza e Compani si è messo l'isola Capo Rizzuto Mister Di Maria si aspetta una risposta decisa a Luigi Razza le prime indicazioni positive sono arrivate nel classico test di metà settimana i rosso-blu hanno affrontato il Catanzaro in un'amichevole a porte chiuse permettendosi il lusso di passare anche in vantaggio contro i più quotati cugini giallorossi Rete firmata dall'ottimo Gara Atben sostenuto dai colleghi di reparto Senei e Dallegretti gli uomini chiamati a far male al Castrovillari Bene così, con questo è davvero tutto se volete ci rivediamo nell'edizione serale di Laci Sport ora vi lascio al meteo, grazie Grazie a tutti